Ciao a tutti e benvenuti per un nuovo video su eFootball2023 Ed eccoci qua, abbiamo 4 contratti da aprire oggi Andiamo subito a vedere cosa ci offre Konami Innanzitutto abbiamo la leggenda gratuita Seconda leggenda gratuita Epic che ci regalano Poi abbiamo qui un giocatore della Spanish League Fra cui ci sono questi 3 big, le carte più ambite Poi abbiamo anche giocatori e stars di luglio Parte 1 e parte 2 E poi nient'altro Quindi ragazzi, incominciamo subito da questo qua Dove ci sta anche un Alland Cross Vediamo un po' chi becchiamo fra questi Da 1, 2, 3, gratis Vediamo un poco Si entra nello stadio come sempre Campionato italiano Ti pareva che non beccavamo qualcosa del campionato italiano Eccolo qua Chi è Berardi Berardi del Sassuolo Quanto è questo di valutazione generale Vediamo, vediamo Questo è 93, quindi un 96 Vabbè, resterà probabilmente nelle riserve Poi andiamo con questo Qui abbiamo Moreno Tiago Silva Ozyman Beh, vabbè niente di che Pure qua Era meglio forse quell'altra con Alland Vediamo, vediamo Un giocatore gratis Eccolo qua Niente Questo proprio ci è andato male Ok Campionato Olandese Vabbè Chi è? Le 20 A quanto mi sembra Vediamo un poco 91 Vabbè Niente Niente di che Lasciamolo là E poi ragazzi Ragazzi, ragazzi Abbiamo questo qua Dove ci sono questi tre fenomeni Lewandowski Questo mi sa Pure 102 Forse potrebbe fare Vediamo, vediamo Qua Vabbè Non ci spero troppo Comunque Vediamo almeno Un 5 stelle Qualcosa di buono Se c'è Liga spagnola 3 stelle Qua sempre 3 stelle Si beccano con quello gratis Al primo colpo Gomez Vabbè Eppure questo Andrà nelle riserve Poi Poi Qui abbiamo La nostra leggenda Garantita Drogba Berkram Casillas E qua Ho un Casillas O un Drogba Ci farebbe comodo Comunque Un centone Arrivano a 100 Tutti qua Poi qua Abbiamo tutti gli altri Guardiola Donadoni Qua abbiamo beccato già Zamorano Inutile come pochi E boh Andiamo a vedere Chi becchiamo Ragazzi Daie 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 Speriamo qualcosa di buono 1 2 3 Gratis Vediamo Vediamo cosa c'è Si entra Nello stadio Naturalmente Giro Dorato English League Tensione Tensione English League Quindi potrebbe essere Comunque qualcosa di buono Abbiamo beccato Bearcramp Bearcramp Avevi sperato In Drogba Maggiormente Vabbè Comunque Niente male Questo Bearcramp Che mi sa Arrivare a 99 Dovrebbe arrivare a 99 Se non sbaglio Eccolo qua Seconda punta Non uso molto Questo ruolo Nella mia squadra Però vabbè Lo proveremo Sicuramente E Niente Ragazzi Niente Abbiamo finito Qui con questo video Come sempre Lasciate un mi piace Iscrivetevi Al canale Se volete Essere sempre Aggiornati Sui prossimi video E ciao a tutti Da Gian